Ciao belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Oggi finalmente vi parlo del famigerato killer delle recensioni di Amazon. Avevo già fatto un brevissimo video su TikTok e praticamente tutti volevano che ne parlassi anche su YouTube, con tutti i dettagli del caso. E quindi eccomi qui, o meglio eccoci qui. Oggi infatti sarò in compagnia di Lorenzo Crimini e Criminali, che mi aiuterà a raccontarvi questa storia pazzesca. Salve a tutti, io sono Lorenzo e nel tempo libero posto qualche video true crime sul mio canale YouTube. Lo faccio da quasi un anno e posto a cadenza settimanale. Se vi va sentitevi liberi di fare un salto. Fatte le presentazioni, è arrivato il momento di iniziare. Ok, we have Kayla. Excuse me. We have Kayla in your property. Ok, so at this time I'm going to need you to stand up. You're under arrest right now for kidnapping. All right, they're going to need you to search your property. If you want to help yourself, tell me where Charlie's at, so we can go find his body. You don't want to. No, sir. Ok. So you're saying you didn't lock her up, you didn't put her in a connex box or anything? No, sir. I'm only in that journey. Probably good thing. Go ahead and put him in the back of your car. Sir. Hello? Yes, sir. I'm going to send that back. Quello che avete visto è il momento in cui Todd Collep viene finalmente fermato. Ciò che fece è davvero orribile. Ma per capire meglio la sua storia dobbiamo partire dal principio. Todd nasce nel marzo del 1971 e passa la sua infanzia tra South Carolina e Georgia. I suoi genitori si separano quando lui ha tre anni. Sua madre ottiene la custodia e sposa un uomo un anno dopo. Todd inizia quindi a sviluppare una relazione malsana con il suo patrigno e si esprimerà più volte il desiderio di andare via di casa, più precisamente a vivere con suo padre, dato che praticamente non poteva vederlo. È presto diventato un bambino problematico. All'asilo era noto per essere particolarmente aggressivo verso gli altri bambini, diventando violento e in molte occasioni arrivando a rompere i loro giocattoli. Poi all'età di 9 anni iniziò a sottoporsi a una terapia psicologica e venne descritto come esplosivo e ossessionato dal sesso. Rendiamoci conto, ha solo 9 anni. Oltre a tutto questo però il piccolo Todd mostrava anche una violenza ingiustificata nei confronti degli animali. Da quello che sappiamo sparò a un cane con una pistola a pallini di piombo e uccise un pesce con la bandeggina. Tutti i comportamenti che, se sommati, dipingono un quadro davvero preoccupante. Infatti, grazie alla sua incapacità ad andare d'accordo con gli altri bambini, spenderà tre mesi e mezzo in un ospedale psichiatrico. Intanto sua madre e il suo patrigno si separarono e alla fine del 1983 Todd fu affidato al padre biologico in Arizona. Cercò subito di adattarsi, iniziando a fare diversi lavoretti nell'area e in quel periodo ereditò uno strano hobby dal padre, quello di collezionare armi ed esplosivi. E nonostante il loro rapporto all'inizio fosse decente, negli anni andò col deteriorarsi. A quanto pare il padre non era molto presente, non si interessava di lui e delle sue fidanzatine. Questo lo faceva sentire molto male, tanto che Todd comincia a desiderare di ritornare con la madre. Quest'ultima trovò delle scuse per allungare la sua permanenza dal padre, non è ben chiaro il perché. Poi però accadde qualcosa che cambiò la vita di Todd e dei suoi cari per sempre. È il 25 novembre 1986 e il quindicenne Todd Colhap commette il suo primo crimine, un crimine molto grave. Rapisce una ragazza di 14 anni a Temp in Arizona, sotto la minaccia delle armi. Aveva infatti con sé una revolver calibro .22. La obbliga a tornare a casa con sé e una volta lì la lega e la aggredisce sexualmente. Fatto questo la riaccompagna a casa e minaccia di uccidere i suoi fratelli, semmai avesse detto qualcosa a qualcuno. Per fortuna questa ragazza ha avuto il coraggio di parlare. Todd verrà arrestato e accusato di rapimento e abusi sexuali. Secondo i documenti del processo Todd venne diagnosticato con un disturbo borderline della personalità e gli viene attribuito un QI, quindi un quoziente intellettivo di 118, al di sopra della media. Il giudice lo definì come un ragazzo molto intelligente e con potenzialità di successo accademico, ma dal punto di vista comportamentale ed emotivo per lui era molto pericoloso. In carcere molto probabilmente non sarebbero riusciti a rieducarlo alla società. Tuttavia, anche se inizialmente Todd mostrava comportamenti violenti dietro le sbarre, dopo i 20 anni comincerà a calmarsi e non commise più alcun atto di disobbedienza. Stava provando a comportarsi bene, a regare dritto e dopo 14 anni di reclusione, nell'anno 2001 viene rilasciato. Da quel momento in poi provò a farsi una nuova vita e a costruirsi un profilo insospettabile. E sorprendentemente ci riuscì. Ma mentre costruiva questa immagine di uomo perfetto e riabilitato, teneva dentro di sé un terribile segreto. Qualcosa di davvero acchiacciante che nessuno si sarebbe mai aspettato. Nel momento del rilascio, Todd si trasferì nella Carolina del Sud, vicino a sua madre, e dato che durante la reclusione si era addirittura laureato in informatica, trovò un lavoro come graphic designer a Spartanburg. Lavorò lì dal gennaio 2002 fino al novembre del 2003 e intanto iniziò anche a studiare al Greenville Technical College. Ma solo un anno più tardi si trasferì all'Università del South Carolina, vicino a Spartanburg, dove si laureò nel 2008 in Business, Amministrazione e Marketing. Era un buon studente e sinceramente nessuno si aspettava che prendesse tante qualifiche. Pensate che nonostante fosse registrato come molestore sessuale, nel 2006 riuscì anche a ottenere la licenza come agente immobiliare, ma riuscì a farlo solo mentendo riguardo i suoi reati. Da lì però riuscì a costruire un'azienda con una dozzina di agenti immobiliari sotto di lui. Presto si fece la fama di essere l'agente con più vendite del Carolina. Era riuscito a diventare un uomo d'affari e stava avendo un successo enorme. Pensate che oltre a tutto questo riuscì ad ottenere anche una licenza come pilota privato. Ma tutto ciò era possibile solo perché le persone non conoscevano davvero Todd. Innanzitutto nel maggio del 2014 acquistò quasi 40 ettari di terreno, per un valore di circa 300.000 dollari. Poi installò una recensione intorno alla proprietà, dal costo di 80.000 dollari. Quello sarebbe stato il luogo perfetto per nascondere i suoi più oscuri segreti. Sebbene a quel tempo la maggior parte delle persone lo vedesse come un uomo in gamba e di successo, alcuni clienti e colleghi iniziarono a scoprire il suo lato malato. Un cliente che ha venduto la sua casa a Todd ha infatti dichiarato che fosse estremamente estroverso e professionale, ma ha anche notato che parlava spesso delle sue armi e talvolta usava sottili allusioni sessuali durante le loro conversazioni. Inoltre, un banchiere che lavorò con lui raccontò che spesso guardava video pornofici anche a lavoro, quindi a qualcuno era chiaro che qualcosa non andasse, ma nemmeno loro si sarebbero mai immaginati quanto davvero fosse contorta e spaventosa la sua mente. E questo ci fa tornare al video iniziale. Perché Todd si trova lì con la polizia? E perché un uomo d'affari di successo sta per essere arrestato? Per rispondere a queste domande, dobbiamo scavare in quella parte nascosta della sua vita, che nessuno fino ad allora conosceva. Dobbiamo quindi prendere in considerazione altre due persone che Todd conosceva, Kala Brown e il suo ragazzo Charles David Carver. Il 31 agosto 2016, Kala e Charles si presentano da Todd per fare delle pulizie nella sua proprietà. Lei aveva già lavorato per il suo business, perciò convince il suo fidanzato a fare altri soldi facili facendo le pulizie insieme, quindi non aveva nessun motivo per credere che sarebbe stato pericoloso. Lo conosceva e si era trovata bene la scorsa volta. Questa volta però, sfortunatamente, le cose andarono in maniera diversa. Quella stessa sera i due coniugi avevano appuntamento con degli amici per cenare insieme, ma nessuno dei due si presentò. Ovviamente provarono a chiamarli, ma non risposero. Nessuno però si allarmò troppo, almeno non quella sera. Diversi giorni dopo, la madre di Carver, Joan Schiflett, si iniziò a preoccupare seriamente. Non aveva più ricevuto sue notizie. Inizialmente pensava che stesse semplicemente dormendo dopo i suoi turni di lavoro di 12 ore, ma con il passare dei giorni era chiaro che qualcosa non andava. Nel frattempo anche una delle amiche di Kala stava iniziando a preoccuparsi davvero. Così iniziò a indagare a modo suo, con l'aiuto di altri loro amici. Scoprirono in fretta qualcosa di decisamente preoccupante. Riuscirono ad entrare nel loro appartamento e con sorpresa notarono che era stato tutto lasciato lì, come se fossero scomparsi nel nulla. Inoltre, il cane della coppia, che Kala amava tanto, era rimasto da solo, senza cibo né acqua. Era chiaramente qualcosa che la donna non avrebbe mai fatto, a meno che non fosse in pericolo o obbligata ad abbandonarlo. Vennero quindi dichiarati scomparsi e per più di un mese nessuno ebbe più loro notizie. La polizia non aveva nessuna pista da seguire e i parenti e gli amici erano disperati. Ma nell'ottobre di quello stesso anno iniziò ad accadere qualcosa di sospetto su Facebook, qualcosa che avrebbe dato una svolta decisiva alle indagini. Con nessun indizio e nessuna teoria su che fine avesse fatto la coppia, le indagini erano a un punto morto. Il mistero si infittirà ancora di più il 2 ottobre 2016, quando qualcuno comincerà a postare delle foto e scrivere dei post sul profilo Facebook di Charlie. Scriveva che stavano bene e che non volevano vedere nessuno. Si erano sposati, avevano comprato casa e vivevano serenamente. Ma se era davvero così, perché non rispondevano a nessuno? Tra le cose pubblicate sul suo account, alcune foto hanno preoccupato la madre di Charles. Foto come questa, con delle sfumature inquietanti. Charles non aveva mai pubblicato nulla del genere. Anzi, non era mai stato attivo per niente. Quindi perché adesso dovrebbe postare questo tipo di contenuti? Come molti immaginavano, quei post non erano scritti da lui. Da quel momento in poi gli investigatori cercheranno in tutti i modi di rintracciare i telefoni della coppia. Notarono che quello di Kala si era connesso ad una cella radio da qualche parte nella contea di Spartanburg. Ma la posizione era ben lontana dall'essere precisa. Poi, finalmente, arriva la svolta. La polizia riuscì ad ottenere le conversazioni su Facebook della donna. E gli agenti scoprirono dei messaggi che si era scambiata con un certo Todd Cole. Da questi capirono che i due si erano messi d'accordo per svolgere un lavoro sulla proprietà dell'uomo. Lavoro che si sarebbe dovuto svolgere lo stesso giorno in cui i due fidanzati scomparvero. E con sorpresa degli agenti, il terreno di Todd si trovava all'interno dell'area segnalata dall'ultimo ping del cellulare di Kala. E con questi dati alla mano, la polizia ottiene finalmente un mandato di perquisizione. Durante l'ispezione di questo grande terreno, si parla più o meno di 40 ettari, uno degli agenti sentì il rumore di una persona che bussava. Più i suoi colleghi proseguivano, più i rumori si intensificavano. E di lì a poco capiranno da dove provenivano esattamente. Da un container. Adesso potevano anche sentire le urla. Si misero subito all'opera. All'interno c'era Kala Brown. Aveva una catena intorno al collo e una intorno alla caviglia, che le rendevano impossibile scappare. Una delle prime cose che gli agenti le chiesero fu dove fosse Charles. Al che la ragazza rispose con queste esatte parole. I ha sparato. Todd Collep ha sparato tre volte al petto a Charlie. L'ha avvolto in un telo blu, l'ha messo sul trattore e mi ha rinchiusa qui. Non so altro. Dopo queste agghiaccianti parole, gli investigatori la salvarono e continuarono le loro ricerche. Trovarono subito l'auto di Charles, che era stata abbandonata nei boschi ed era stata dipinta di marrone. Ma questa sarà solo la prima delle loro scioccanti scoperte. Kala, che era sopravvissuta, aveva infatti tantissime cose da raccontare agli agenti. Durante i lunghi mesi in cui era stata tenuta prigioniera, Todd le aveva raccontato tutta la verità su di lui. Raccontandole di tutti i crimini che aveva commesso in passato. Kala dichiarerà che a Todd piaceva vantarsi di essere un serial killer ed un assassino di massa. Le diceva di aver ucciso quasi 100 persone, ma che voleva continuare per arrivare a quattro cifre. Le fece vedere anche dove aveva sepolto alcune delle sue vittime per spaventarla e sottometterla. Mentre la polizia analizzava le sue dichiarazioni, fece una scoperta inquietante. Kolep era collegato ad altri due crimini irrisolti nella zona. Le ricerche sulla sua proprietà avevano infatti condotto gli investigatori dal corpo di Charles e li avevano condotti anche ai corpi di due persone irriconoscibili. A quel punto la polizia sospettava che Todd fosse il responsabile di sette omicidi. È il 6 novembre del 2003. Quattro persone stanno lavorando al negozio Superbike Motorsports a Chesney, nella Carolina del Sud. Si chiamano Scott Ponder, Beverly Guy, Brian Lucas e Chris Sherbert. Quel pomeriggio, prima di andare al negozio, Scott si ferma a parlare con il suo amico Noel. Poi va in macchina e si dirige verso il lavoro. Circa sette minuti dopo, Noel lo raggiunge al negozio, ma trova tutti e quattro i dipendenti morti, Chris e Beverly nel retro del negozio, mentre Scott e Brian all'entrata. Ognuno di loro è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. Si iniziano ad avere dei sospetti, piste da seguire, ma tutte le indagini non servono a niente. Non viene trovato nessun colpevole. In quei giorni Todd Colap stava ancora studiando all'università e aveva appena finito di lavorare come graphic designer a Spartanburg. Aveva acquistato una moto da Superbike Motorsports, ma voleva chiedere un reso. I dipendenti però, a quanto pare, lo presero in giro perché non era in grado di guidarla. Il 6 novembre del 2003, allora, Todd si presenta al negozio e fa fuoco. Questo quadruplo omicidio è l'inizio della furia di Todd. Per ben 13 anni questo caso rimase irrisolto, ma una volta arrestato, Todd diede dei dettagli agli agenti che solo il killer poteva conoscere. Era ufficialmente stato lui, ma allora chi erano quegli altri due corpi rinvenuti nel terreno dell'uomo? Todd era un cliente abituale alla Waffle House di Royback, ma non era esattamente un buon cliente, anzi si comportava male e importunava continuamente le cameriere. Era talmente tanto maleducato che il cuoco, un uomo, decise di prendere le sue comande. Una delle cameriere era la 26enne Megan Coxie. Era sposata con Johnny Coxie, di 29 anni, ed erano entrambi scomparsi dal dicembre del 2015. I corpi trovati nella proprietà di Todd erano proprio loro, riconosciuti in seguito solo grazie ai grandi tatuaggi che avevano. Secondo quanto riportato, le vicende di questo caso sono state molto simili a quelle di Kala e Charles. Infatti i due vennero invitati da Todd per un lavoro nella sua proprietà. Subito però il killer sparò a Johnny uccidendolo e legò a Megan. Dopo averla tenuta prigioniera per circa una settimana però, uccise anche lei. Era passato quasi un anno quando vennero ritrovati. Ma quindi, perché quando si parla di lui lo si chiama il killer delle recensioni di Amazon? Ecco, Todd era un grandissimo fan di Amazon. Nella sua lista dei desideri aveva aggiunto tutti gli oggetti che avrebbe utilizzato in seguito per i suoi crimini. Dal 2014 fino al 2016 Todd lascerà 140 recensioni sugli oggetti che acquistava. Armi, coltelli ed equipaggiamenti militari erano solo alcuni dei suoi oggetti preferiti. E le sue recensioni erano strane, ma conoscendo la storia diventeranno agghiaccianti. Ecco qualche esempio. Non ho ancora pugnalato nessuno. Ancora. Ma non vedo l'ora di farlo e quando lo farò lo farò con un oggetto di qualità proprio come questo. Bel lucchetto, ne ho cinque in un container. Non li fermerà ma di sicuro li rallenterà fino a quando saranno troppo vecchi per preoccuparsene. Ecco, queste recensioni sono state lette da un bel po' di persone e per fortuna qualcuna di loro decise di segnalare Todd alle autorità. Questo, insieme a tutte le altre prove, porterà all'arresto del signor Colep. Nel maggio del 2017, Todd Colep viene finalmente condannato a setter gastoli. Uno per ogni omicidio accertato. Più ulteriori 60 anni di reclusione. Non uscirà mai più dalla sua cella. Negli anni dopo il suo arresto dichiarò di essere responsabile di varie altre vittime, ma senza prove ufficiali. Questo è stato il verdetto finale. Davvero nessuno si aspettava che un uomo così di successo nascondesse un lato così in marcio. Questa era la brutale storia di Todd Colep, il killer delle recensioni di Amazon. Prima di salutarvi devo ringraziare Lorenzo per essere stato qui e per avermi aiutato a raccontare questa storia decisamente delicata. Spero, anzi speriamo, che questo video vi sia piaciuto. Ci tengo davvero a ringraziare Andrew per avermi dato questo spazio sul suo canale. È una delle prime persone che ho incontrato durante il mio percorso da youtuber e mi sarebbe sempre piaciuto fare una collaborazione con lui. Spero proprio che il video vi sia piaciuto e come dico sempre prendetevi cura di voi stessi. Grazie ancora Lorenzo, adesso vi saluto anche io e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!